Musica 5, 4, 3, 2, 1 Ciao a tutti ragazzi, oggi ragazzi siamo qui tornati con un video abbastanza particolare Oggi ragazzi mi sono armata di panino e bibita per farvi un video abbastanza particolare Questo diciamo ragazzi che sarà un video dove parlerò mentre sorseggio la mia bevanda E mentre assaggio, no assaggio, e mentre mangio il mio panino Come se in questo momento io stessi a casa vostra Tipo regà in questo momento stiamo pranzando tutti e due e intanto parliamo Oggi ragazzi vorrei parlarvi di una cosina che mi è successa appunto ieri Ieri, 27 agosto, sono uscita con amici a farci una passeggiata al centro di Roma Questi amici sono questa persona, questa persona, questa persona e quest'altra persona Se vi ho messo le foto con i nomi sopra Comunque, sono uscita con loro, abbiamo passato una giornata veramente stra stra bella E stra stra divertente Però la sera ragazzi ci sono successe delle cose strane Partiamo però dall'inizio Erano le otto e mezza circa E c'è venuta fame Allora, mentre stavamo facendo tipo dei musicalista story, cose così Ho detto, regà andiamo a mangiare l'UlDW e tutti Sì dai andiamo Quanto dista? Controlla la mappa, 4 km Io ragazzi dovete sapere che sono una persona che quando si impunta sulle cose Finché non la fa, non la puoi proprio smuovere da lì Non mi puoi dire niente Finché non faccio quella cosa di cui mi sono impuntata di fare Rimango anche lì fermo a otto ore finché non facciamo quello che avevo già in mente di fare Cominciamo a camminare per questi 4 km che equivalgono a 47 minuti di camminata E ad un certo punto siamo passati per via del corso Poi per via del corso poi ragazzi c'erano diverse stradine che io non conoscevo Cioè regà sono di Roma Non conoscevo quelle stradine Mi sono vergognata Mi sono letteralmente vergognata di non conoscere quelle stradine Comunque prendiamo pian piano queste stradine Ad una certa Mary se ne esce con Silvia basta non mi fa più di camminare E io no adesso camminiamo e arriviamo fino all'old world west Però regà potete capire che erano 47 minuti di camminata Io non lo so perché mi ero impuntata su sto caspita di old world west E mentre attraversavamo queste stradine Ci passano davanti un botto di ristoranti E in un ristorante tutti quanti dicevano Silvia andiamo qua Io tipo no adesso andiamo all'old world west Se no non mi muovo E poi io regà io continuavo a camminare da sola Cioè poi se loro mi seguivano ok Se no no Cioè proprio io andavo avanti per la mia strada Sti cavoli che i miei amici rimangono dietro Comunque cosa succede tutto ad un tratto però C'era un negozio chiuso Ma chiuso nel senso chiuso chiuso proprio che Dentro c'era soltanto tipo del ferro Con queste sbarre davanti Cosa fa Alessio? Prende la sua bottiglia La lancia E ad una certa regà Ci sente un rumore Ma non della bottiglia che ha sbattuto tipo su un ferro Tipo di qualcosa che dentro Quella caspia di stanza Si è mosso Allora regà noi prendiamo Cominciamo a urlare A correre Poi regà ci fermiamo E da lì raga abbiamo detto Basta Prendiamo un ristorantino qui vicino E mangiamo lì Ma io da furba Quale sono? Dico Vabbè regà Io sapete che faccio? Io proseguo Ho continuato a camminare Mentre c'era Mary and company Fermi E loro sono fermati Io continuavo Adesso ragazzi arriva la parte interessante E quella più paurosa Stavo camminando no? Con un bellissimo navigatore E mi sento qualcuno Che mi tira lo zaino Mi giro Vedo uno Che mi tira lo zaino Regà non ci ho pensato due volte Ho preso Ho cominciato a correre Più veloce che potevo Ragà vi giuro Mi sono spaventata tantissimo Ho cominciato a correre E mi sono nascosta Dietro un muretto Mi chiama Mary Io regà ero morta Cioè stavo morendo Perché tipo adesso voi camminate per strada In una stradina al buio Dove non c'è nessuno Sentite qualcuno che vi tira lo zaino Cioè che fate? Correte no? Cioè andate via Non è che mi mettete là Tirò pugni, calci, ammenà Mi chiama Mary E io Mary Mary Sono nascosta E lei come nascosta? Dove sei? Sono nascosta dietro a un muro Mary C'era qualcuno che mi voleva prendere lo zaino Ma poi con l'affanno Regà Proprio col cuore qua ce l'avevo Vedo arrivare in lontananza Diciamo a qualche metro Alessio and company E lui mi dice Che è successo? Perché sei dietro a sto muro? E tipo Regà Qualcuno ha provato a derubarmi E io là Ho detto Basta Io non ci voglio più andare a questo Al dual west Abbiamo fatto due passi Uno ha quasi cercato di ucciderci In quella cosa Che non so neanche che cos'era In quel negozio E punto due Mi stavano per derubare Cioè regà Io mi immagino se mi avevano tipo preso lo zaino Oppure mi prendevano a me Tipo mettevano un panno in bocca Cioè Che ansia Che ansia Ma di fatto ragazzi Io vi do un consiglio Se stavate con amici In delle stradine al buio Non vi allontanate Mai Per nessun motivo Dai vostri amici Rimanete con i vostri amici Fate tutto insieme Non decidete tipo Di fare cose da soli Fatelo insieme Perché dopo Le conseguenze potrebbero essere veramente brutte Comunque è stato di fatto Che da lì abbiamo preso Ci siamo fermati in un ristorante E tipo Hanno una certa faccia Vabbè raga Io vado al bagno Mary mi fa Dai ti accompagno Andate al bagno E capo non potete capire Quanto stavamo sudando Cioè eravamo Straccaldati tutti Io regà Mi sono fatta quella corsa Poi ho smartito tutto quanto Lo schifo Che mi era successo prima Dopo un pochino di tempo E mi sono sentita Tutto così Tutto il sudoraddo Cioè Questa sensazione bruttissima Allora Allora in quel bagno Era tipo C'è veramente quei profumi No? Che c'è sta La boccetta Con dentro il profumo Con dei bastoncini immersi Ecco Mary che fa Prende quei bastoncini E comincia A lanciarmi Così le gocce Di sto profumo addosso E che cosa mi succede? Un po' raga Mi sento spuntare Una bolla qua Poi una qua 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 mi prudeva tutto Cioè raga Ma non mi era presa L'allergia Non mi era presa L'allergia Da sto profumo Sono sciacquata Poi non so Poi non so Cominciare a grattare Vi giuro È stata una serata Disastrosa Ci siamo divertiti tantissimo Perché dopo abbiamo fatto Tante altre cose Stai divertenti Però raga Mi credete che quando Quello mi ha tirato Lo zaino Sono morta Sono morta Sono mortissima Vi giuro E questo ragazzi È quello che mi è successo Ieri Molti mi hanno chiesto Sivi che cosa è successo Sivi che cosa Sivi quella Sivi che là Perché io ieri ho messo una storia Dopo essere scappata Da tutto sto casino Dicendo ragazzi Non uscirò mai più Con loro quattro E vi giuro È stato veramente Stradivertente Quindi spero ragazzi Comunque questo video Vi sia piaciuto Di panino Regà L'ho morso così Perché quando comincio a parlare Di solito manco mangio Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Se questi tipi di video Dove vi racconto La mia Disastrosa Unlucky vita E sempre qui sotto Consigliatemi Quale location Usare la prossima volta Quindi nulla ragazzi Se questo video vi è piaciuto Questo diciamo Una piccola nuova serie Perché ogni tanto Regà apro serie Poi tipo Non le continuo Poi li chiudo Poi si riaprono Vabbè Sosteniamo questa piccolissima serie Lasciando un bel like E facciamo che per questo video Raggiungiamo almeno I 30.000 like Dai 30.000 ragazzi Ci stanno E spacchiamo Quel tasto Adesso Su questo video Mi sono andati E vi iscriviti Siamo andati E vi iscriviti Perché sono più belli E iniziali Ragazzi Non ci siamo Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto Ciao ragazzi Ciao Ciao!